Giocare a Damalceca è sicuramente molto impinativo, anche perché bisogna ricordarci ogni pilina presente sulla Damera e ricordarci sia le mosse che faccio io, sia quelle che fa il mio avversario. Ci vuole un allenamento sicuramente costante, io da un anno che mi alleno, anche se ero fermo da qualche mese, ho ripreso solo un mese fa, adesso a novembre devo fare i campionati italiani, ovviamente guardando, tra i 16 più forti in Italia, sicuramente non vinco, però spero di piazzarmi bene. È difficile perché comunque Alessandro è bravo, anche se è bendato, è comunque difficilissimo. È l'unico che abbiamo nel circo, bravissimo, infatti sta partendo per Lecce per un campionato italiano, è una cosa fenomenale perché ha solo 20 anni e speriamo che cresca ancora. È un ciclo che sta crescendo molto, infatti quando abbiamo aperto eravamo solo 8 iscritti, ora ne siamo 30 ma abbiamo molti giorni. Io sono anche istrettore di Dam, giro nelle scuole, infatti io parto con la scuola in Martinello, dopo ne avrò calcio, se qualche scuola vuole fare dei laboratori noi siamo disponibili.